Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, in questo video parliamo del dramma di Nino D'Angelo, un personaggio molto amato, un simbolo della napoletanità nel mondo, un cantante molto bravo, un cantante che di recente è tornato alla ribalta e prima di iniziare vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 700 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, Nino D'Angelo ha fatto la storia della musica italiana ed è stato anche un buon attore, i suoi film degli anni Ottanta, quando aveva l'inconfondibile caschetto, sono stati molto apprezzati e di recente Nino D'Angelo è tornato a far parlare di sé, è tornato in televisione, lo ha fatto avverissimo, di Silvia Toffanin, Nino D'Angelo ha parlato di una tremenda estorsione che ha subito all'incirca 30 anni fa, fui costretto ad andare via da Napoli, è stato il momento più brutto della mia vita, quelle persone spararono all'interno di casa mia, Nino D'Angelo ha poi parlato del periodo recente che per lui purtroppo è stato sinonimo di depressione, Nino D'Angelo ha dichiarato, scrivere di vita quando vicino a te c'è la morte, è davvero difficile, ma Nino D'Angelo tutto sommato ha chiusato con un epilogo positivo dicendo che adesso sta bene, è tornato a scrivere canzoni ovviamente, gli facciamo i più sinceri auguri per la sua carriera di cantante, amici di Youtube grazie per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao a tutti!